Siamo alle pagine sportive per questo 22 febbraio che ricorderemo almeno come giornata di commento di un'altra medaglia d'oro delle Olimpiadi Invernali, ancora una medaglia al femminile, 3 su 3, qualcosa vorrà pur dire tutto questo e la protagonista è questa straordinaria sciatrice bergamasca Sofia Goggia, prima azzurra a trionfare nella storia, nella discesa libera è il terzo oro al femminile, è doveroso aprire con la sua impresa che cogliamo dalla nazione Favolosofia è il titolo dell'inserto, l'oro che brilla di più, possiamo fare anche 13 Lollobrigi da Fontana e Wierer, le nostre speranze, anche se questi titoli per chi è scaramantico non è che portino molto bene, quando si scrive così puntualmente le speranze si affievoliscono guardiamo il medagliere, l'Italia è all'undicesimo posto con 3 ori, 2 argenti e 4 bronzi a 9 medaglie l'obiettivo che era stato dichiarato da Iconi di andare in doppia cifra con le medaglie è davvero ad un passo, comanda la Norvegia con ben 13 ori, ma insomma il circo bianco olimpico è ovviamente terra di conquista per il paese scandinavo che certamente sia nello sci di fondo che in quello alpino ha tante frecce al suo arco, una vera insurrezione contro la divina Von, così funziona lo sport dice Leo Turrini nel commento a questo oro ma noi veniamo ai titoli di casa nostra ancora dalla prima pagina dell'inserto Ternana, Decagno, nuovo tecnico, Bandecchia, la scelta migliore a Terni doveva andare Giovanni Pagliari che però ha rifiutato per amore del Perugia sono troppo legato alla mia storia passata, le mie foto sono al museo del Grifo come dire, non potevo accettare di prestarmi a questo che sarebbe stato vissuto come un affronto dai tifosi del Perugia in un'epoca di calcio, business certamente una scelta di bandiera che gli fa onore anche perché rappresenta in questo momento per pagliare una rinuncia professionale alla Ternana proprio no, il titolo appunto su questo declina l'invito come secondo di Decagno, amo troppo il Grifo intanto Corretti dice a Frosinone per vincere, toglierei Ciofani se potessi dice sicuramente riferimento a Daniel con tutto il rispetto per il fratello Matteo io ero sopra le righe, oggi manco un pizzico di follia lo dice Mazzantini, nuovo tecnico dei portieri del Perugia che si racconta tra passato e presente, lo ricordiamo da giocatore come un cavallo pazzo Ternana Decagno la scelta migliore, dice Bandecchi il suo progetto è simile al mio ma ora dovrà fare un mezzo miracolo ieri è tornata in campo la Serie D, turno infrasettimanale, mezzo Lara, Trestina mancano solo i golli però uno 0-0 prezioso per i bianconeri mentre al Villa Biagio basta il primo tempo 2-1 sul Castelvetro con le reti di Goretti e Brunori che consentono alla squadra di Cocciari di consolidare il terzo posto ma ieri sera la Sirseft ha messo appunto in cassaforte la prima posizione in classifica Blinda è il primo posto, perdono il primo sette ma poi dominano la gara con Latina ribaltata e matematica, il primo posto che è importante in chiave playoff scudetto stasera gioca la Bartoccini in A2 femminile contro il San Giovanni Marignano sempre al pala evangelisti il basket serie C, la vetria a Urvieto si prende lo scontro diretto con Assisi mentre l'Umberti De Crolla, partita senza storia a Viterbo lasciamo la nazione, andiamo al Corriere dell'Umbria che intanto celebra la figura di uno sportivo particolare Luca Aiello del Sodalizio Lunatici di Elra Corciano non vedente ma podista doc, aveva concluso la maratona di New York lo scorso novembre ha concluso un'altra maratona, quella a San Valentino a Terni domenica scorsa con Genovese il suo fido accompagnatore il quale ovviamente necessita per coprire l'intero percorso ma insomma immaginare per 3 ore e 57 minuti questo peraltro è il tempo davvero notevole notevole come performance di Aiello questo è il tempo appunto fatto segnare nell'ultima prestazione di Terni ogni allenamento serve per lanciare un messaggio positivo dice l'atleta appunto della Lunatici Elra missione compiuta Sir e storia storia perché? perché non era mai accaduto che la squadra perugina finisse al primo posto la regular season e contemporaneamente avesse già in tasca non solo due trofei Supercoppa e Coppa Italia ma anche la qualificazione in Champions mai successo prima l'MVP del match è Berger con 15 punti Colaci spegne 33 candeline sul Taraflex l'austriaco dice qualche difficoltà all'inizio poi tutto ok ha giocato poco quest'anno ma quando è stato chiamato in causa come stavolta ha risposto presente Fere parte l'era De Canio Bandecchi rilancia progetto a lungo termine bisognerà capire però se il progetto sarà in Serie B perché la Ternana deve reagire subito per invertire la rotta e guarda già alla lista svincolati c'è un difensore bulgaro Alexandrov nel Mirino l'ennesimo straniero Grifo il turnover può attendere tre impegni in sette giorni a Frosinone Breda dovrebbe confermare il 3-5-2 con poche variazioni tra i titolari in terra ciocciara dovrebbero partire dal primo minuto Paiac e Della Fiore con Colombatto al posto di Bianco Guretti è carico vogliamo essere i primi a vincere Allo Stirpe questo per quanto riguarda il Perugia Da Gubbio Da Gubbio Nubi Nubi sulla formazione Rosso Blu dopo la sconfitta col Pordenone che dovrà essere tra l'altro metabolizzata in dieci giorni perché la prossima prossimo weekend i Rosso Blu non giocano devono riposare per questo calendario fantomatico cui siamo costretti a confrontarci quest'anno con cui siamo costretti a confrontarci ora il Barbette terra di conquista analizza il Corriere solo il Ravenna ha fatto peggio del Gubbio 5 sconfitte in 13 partite come il Sant'Arcangelo non era mai accaduto in passato nel passato in Serie C almeno appena una sola sconfitta ci sono stati anni con una sola sconfitta 88-89 89-90 gli anni di Landi e Giorgini 2002-2003 con Alessandrini 2010-2011 ovviamente con Torrente ma anche tanti anni con appena due incidenti al massimo ce ne erano stati quattro e quest'anno si è battuto questo non invidiabile record calcio giocato Villa Biagio ok il ritmo è giusto nella gara di ieri Goretti e il solito Brunori liquidano una pratica a Castelvetro nel giorno del rientro di Gramaccia e Sansepolcro ripreso dalla Colligiana nello scontro diretto stavano vincendo i biturgenzi sarebbero stati tre punti fondamentali invece Schenardi riparte con un punto Trestina un altro passettino è 0-0 col Mezzolara ancora un pari il terzo nelle ultime quattro gare la classifica però si muove Fiorucci non digerisce dice risultato che ci va stretto Coppa di Lettanti il massa è a metà dell'opera Angeli batte il Camerano nell'andata del primo turno della fase nazionale 1-0 il ricorre reclamato il gol è un affare di famiglia l'assist del fratello gemello Marco mercoledì gara di ritorno in provincia di Ancona il basket che bella festa col basket di ai tanti giovani la festa c'è stata ad Assisi spalti colorati da tanti appassionati per vedere all'opera Pesaro e Rieti che hanno riportato in Umbria per una sera la gustosa atmosfera della palacanestro di alto livello che aggiungiamo noi manca da troppo tempo nella nostra regione volley a due femminile Zambelli nel bel blizzacchieri Bartoccini stasera c'è la seconda nel tiro a volo Tittarelli vince il sesto trofeo del presidente a massa Martana chiudiamo col messaggero Grifo Mission vinciamo allo stirpe dice Goretti che lancia la sfida al Frosinone vogliamo essere i primi a vincere nel nuovo stadio e sabato ci sarà anche Diamanti ma ovviamente non sappiamo non gioca da fine maggio se sarà già in grado di scendere in campo ma Zantini chiamato inaspettata questa piazza ce l'ho nel cuore ovviamente titoli anche su Villa Biagio Trestina Vittoria Villa Biagio Trestina Belpari e poi da Terni Bandecchi chiama De Canio un contratto per tre anni per il nuovo allenatore crede nel nostro progetto pronto anche a ripartire dalla Lega Pro Circon Adolè salutate la capolista e capolista sarà sicuramente Block Davids battono Latina certezza matematica del primato il match in avvio Bernardi cambia Ricci e Berger titolari Perugia ci mette l'orgoglio quarto set chiuso 25 a 10 intanto Monini serve una scintilla per ripartire la squadra Spoletina mentre UBS Foligno straripante nel derby Atomica giù siamo al basket adesso c'è la sfida di coppa contro Perugia è tutto per lo sport ma prima di chiudere come ormai di consueto abbiamo il meteo le rucce elettrodomestici a Semonte di Gubbio presenta le grandi offerte del momento lavatrici Asco costruite come una volta per durare una vita Expo Casa 3 11 marzo Umbria Fiere di Bastia Umbra arredare costruire ristrutturare e siamo al meteo con le previsioni di Rick Meteo Riccardo Rossi che tornerà stasera alle 19.25 alle 20.15 ma intanto per la giornata di oggi 22 febbraio giornata più mite perturbata delle precedenti discrete nevicate in appennino per tutto il giorno con quota neve intorno ai 700-800 metri nella parte orientale della regione pioggia intermittente con discrete precipitazioni una quota neve che si attesta tra i 800-900 metri nel resto della regione anche pioggia intermittente quota neve più alta oltre i 1000 metri temperature minime tra i 2 e i 3 gradi quindi in rialzo così come le massime tra i 6 e gli 8 gradi questo per la giornata di oggi nella nostra regione e questo per chiudere questo appuntamento del nostro TRG mattino che andrà in replica fino alle 11 che potrete ritrovare in radio alle 8.30 su RGM e più tardi anche sul nostro sito trgmedia.it al quale vi rimandiamo anche per gli aggiornamenti delle news nel corso della giornata l'informazione torna stasera alle 19.30 grazie e buon proseguimento con TRG grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.